E' bella a tutti ragazzi e ragazzi e bentornati dai ProGamers Eccoci in questo nuovo vlog, ma porca miseria Ogni volta che registriamo ragazzi, ogni volta Ma beh, va boi, lascia stare, riniziamo Bella a tutti ragazzi e ragazzi e bentornati dai ProGamers Oggi sono con Pietro Bella, eccoci in questo nuovo vlog della domenica Della domenica, domenica, si oggi è domenica, si oggi è domenica Ok Se non finirà il mondo domani è domenica Ok, si va bene Comunque Le analogie Allora, no aspetta, prima di iniziare a dirvi queste cose Volevamo dirvi quanti giochi di parole Comunque, volevamo dirvi che No, 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 Demi no Allora, queste settimane come avete visto abbiamo fatto due video Due video nella settimana e poi il vlog, cioè questo E quindi siamo arrivati Riusciamo a farli In un certo senso, sì, riusciamo a farli Ehm Quindi con questo iniziamo a dire le cose che faremo questa settimana Vabbè, via, 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 via Allora, via, 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 via Ok, iniziamo questa, ok Iniziamo questa settimana con Mass Effect 3 Allora, arrivereà il secondo episodio Allora, la demo Che poi una demo Demo gioco Sarebbe tutto il gioco Non si può salvare Praticamente Noi lo porteremo tutto Ok Noi può Noi possiamo e ci sarà anche perché l'abbiamo già registrato c'è anche un bel penso per dimmi bel sì uhuh ah e poi ci sarà anche the every within la demo arriva l'horror l'horror finalmente l'horror l'horror dovevamo iniziare con the space se giuseppe non morirà terrorizzato forse probabilmente vi porteremo anche più avanti the space 3 forse sicuramente non badete a questo forse anche dread out non lo so non sappiamo non sappiamo non sappiamo in indonesiano ok ce l'abbiamo e poi vabbè la domenica vlog giuseppe mangia i microfoni il classico vlog della domenica per questo video è tutto vi ricordo di lasciare un mi piace di condividere il video di commentare tutto quanto iscrivetevi al canale ci vediamo il prossimo video guardate anche gli altri video e sulla prossima bella ciao 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 ciao